Oscar Del Do, il pilota della freccia tricolore che sabato si è schiantata al suolo provocando la morte della piccola Laura, è stato formalmente accusato di omicidio colposo e disastro aereo colposo, un atto dovuto a cautela stessa del maggiore dell'aeronautica. Al vaglio degli inquirenti la scatola nera del jet per capire se il pilota abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Si indaga anche sul gestore dell'aeroporto. Fonti vicine all'aeroporto stesso fanno sapere che la torre di controllo avrebbe avvisato della massiccia presenza di volatili nell'area. In corso anche le verifiche su alcuni messaggi nelle chat di aviatori che parlano di rischio alto legato agli stormi di uccelli. La collisione tra uno più volatili e l'aereo è la causa più probabile della tragedia. Un volatile all'interno di questi condotti d'aria, quello che può capitare è quello che noi definiamo in gergo piantata di motore. Quello che spiega Alberto Bannino, pilota da oltre 40 anni, presidente dell'aeroclub Torino, il luogo che avrebbe dovuto ospitare l'evento delle frecce tricolori è il cosiddetto bird strike. Se questo capita nella fase delicata del decollo può dare seri problemi. Nonostante vengano adottate diverse misure di sicurezza, dall'uso di cannoni rumorosi a quello di mezzi di terra, fino all'impiego dei falchi addestrati per allontanare gli stormi, il rischio zero non esiste. A Caselle sono stati 17 i casi di collisioni tra volatili e aerei solo nel 2022. A Caselle, essendo anche in una zona abbastanza in pianura, con parecchia campagna attorno, potrebbe anche essere. Grazie a tutti Grazie per la visione! Grazie.